Allora Nino, MTB Tour sempre in Basilicata, questa volta un gruppo numeroso, 7 persone, Cascate di Calda, siamo in zona Latronico, versante sud del Monte Alpi, partiamo dalla frazione di Calda appunto, andiamo verso Latronico e poi pian piano, pian piano, saliremo in quella direzione verso le pendici sud del Monte Santa Croce e Monti Alpi, e poi torneremo giù, una discesa impicchiata, insomma come sempre, fatica e divertimento. La mia storia è stata impicchiata, insomma, 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 di fine Jahra, insomma, la mia storia è stata impicchiata, insomma, la mia storia è stata baik piano rumahoff, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.